Allora, visto che il Ministero delle Politiche Agricole è decisivo, ma anche il Ministero degli Esteri è decisivo per quanto riguarda ovviamente il vostro futuro, Mario Di Stefano, il sottosegretario, grazie, è con noi, un applauso per lui, un applauso anche a questo punto, Paolo Castelletti, il segretario generale dell'Unione Italiana Vini, grazie anche a Raffaele Borriello, che è il direttore generale dell'ISMEA, prego Di Stefano, allora, Paolo Di Stefano di qua, scusate per una ragione di microfoni e spostamenti, prego, Castelletti, grazie, di qua, sì, va benissimo qua, grazie Borriello, Giuseppe, vai di là, vai di qua, intanto, accomodatevi tranquillamente, ci vediamo questo video che illustra i temi dei talk, ovviamente, di queste giornate, dopo iniziamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono questi i temi di discussione, di fatto la digitalizzazione domenica, avete visto le nuove vie del vino ancora, invece domani parleremo di migrazione, di cambiamenti climatici oggi, soprattutto sul fatto che il vino possa diventare davvero un modello anche per la internazionalizzazione in generale di tutto l'agroalimentare italiano. Di Stefano, sottosegretario, direi per prima cosa, prima di introdurre il nostro breve talk, la domanda è molto semplice, la risposta immagino difficilissima, cosa sta facendo il governo, cosa avete fatto in questi mesi, cosa vi siete dovuti inventare per sostenere, ovviamente, il mercato del vino all'estero? Grazie a tutti. 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 milioni di euro di aiuti alle aziende esportatrici. Aiuti che sono fondi a tasso agevolato ma prossimo allo zero che è 0,0 qualcosa con una fetta fino al 50% di fondo perduto. Fondi che abbiamo rifinanziato adesso e che abbiamo inserito come primo requisito della farnesina per sia il recovery fund che la nuova legge di bilancio perché crediamo che alle aziende esportatrici e il vino che fa nel 19 6,4 miliardi di esportazioni ne è sicuramente un top ranking dobbiamo stabilizzare questo fondo per avere un fondo da 3 miliardi all'anno che è un rotativo poi quindi non va rifinanziato ogni anno per permettere appunto di essere competitivi rispetto ad altri paesi che hanno una filiera del trade finance altrettanto sviluppata. Il fatto sottosegretario al di là ovviamente dei fondi che sono fondamentali soprattutto con le agevolazioni del caso che cosa vi hanno chiesto ovviamente le associazioni di categoria del vino in questi mesi poi so che siete pronti ad aprire un altro tavolo un tavolo proprio sul vino e di questo immagino che soprattutto l'Unione Italiana Vini voglia in qualche maniera aiutarvi. Noi con l'Unione Italiana Vini abbiamo un rapporto costante io personalmente incontrati più e più volte e quelle le richieste principali sono state sicuramente la campagna di comunicazione perché quando siamo incontrati aprile l'Italia se vi ricordate il momento drammatico che abbiamo affrontato veniva vista come la pestata d'Europa ancora era il paese più colpito purtroppo questa onta un po' c'è rimasta nei mesi e ricordate la il lavoro che abbiamo dovuto fare come Farnesina per proteggere le etichette che esportavamo dove qualcuno pensava di poterci chiedere un bollino di covid free che è una follia totale bene su quello proprio il dodici di settembre abbiamo chiuso la la gara europea per la comunicazione il dodici di ottobre abbiamo chiuso le richieste abbiamo chiuso diciamo il periodo per inviarci le proposte delle dei consorsi di comunicazione abbiamo avuto ben tredici consorsi che hanno partecipato di altissimo rango e entro fino ottobre partiamo con la campagna di comunicazione che sarà una campagna valoriale ovvero raccontiamo quelle che noi abbiamo chiamato adiacenze di sistema quindi il vino e il territorio il turismo e l'enogastronomia ma anche tutto quel comparto meno noto dell'italia che l'innovazione che la scienza la tecnologia e che molti non sanno essere anche uno dei settori di punta della stessa agricoltura come si come si produce oggi non me ne vogliono chiaramente quelle delle coltivazioni di alta montagna le nicchie che abbiamo meravigliose ma come si produce oggi non si produceva vent'anni fa e questa è una qualcosa che non abbiamo mai raccontato più di tanto che meri ci ha reso fieri quando l'italia era in questi mesi del covid in prima linea anche ad esempio sulla sperimentazione dei vaccini quindi sull'alta tecnologia sull'innovazione sulla scienza ecco vogliamo raccontare tutto questo facciamo tramite la campagna di comunicazione in 26 paesi target che sono quelli dove esportate maggiormente quindi dagli stati uniti al sud est asiatico e cina qualche paese in latino america e l'altro punto probabilmente che ci avete chiesto di più e ho visto che tra le attività che il gambero rosso fa ad esempio è la formazione sulla formazione abbiamo veramente investito tanto anche in termini di innovazione conoscete già il progetto perché esisteva dal 2016 il temporary export manager e quello ovviamente rifinanziato ma abbiamo creato anche un altro un'altra forma di voucher per le aziende che che il digital manager perché il covid ci ha fatto ci ha manifestato una un'evidenza che già gli analisti avevano colto il 25 per cento del commercio globale si è mosso su su internet allora oggi esserci o non esserci fa la differenza tra vendere o non vendere il digital manager anch'esso fondo già finanziato è disponibile sarà disponibile già da presente da fra due mesi quindi sono soldi che le aziende possono avere per fornare per avere un digital manager in azienda e poi con un accordo fatto con la crui quindi con le università e con le grandi aziende della dell'e marketing e dell'e commerce facciamo anche formazione direttamente agli imprenditori che vogliono sviluppare capacità in termini di digital ma digital commerce e anche export soprattutto immagino magari per le aziende vinicole quelle con non grandi numeri che poi devono adattarsi avere al loro interno ti dico solo questo dato che marca la differenza ma è evidente sul perché abbia voluto insistere per lo più sulle piccole e medie imprese le grandi hanno quasi tutte anzi tutte un ufficio commercio internazionale hanno un ufficio del digitale in tutte le sue forme dal marketing alla vendita le piccole no bene riformando quei fondi cioè mettendo dentro i paesi anche europei e mette e togliendo le garanzie per l'accesso ai fondi i dati simest che abbiamo dicono che di quel miliardo erogato quasi quasi un miliardo anzi abbiamo richieste già per tre miliardi come vi dicevo 99 per cento va a piccole e medie imprese con una richiesta media di centomila euro quindi veramente piccole e l'ottantadue per cento di queste sono imprese che per la prima volta cedono al fondo con un cinque per cento di risposta positiva nel diciannove da parte di simest è un sessanta per cento oggi quindi la semplificazione devo dire in questo caso è riuscita e questo ce lo direte voi perché perché ora facciamo questo tavolo vino come dicevi e facciamo anche una nuova convocazione di quei tavoli verticali dove ci verrete a raccontare come se e come hanno funzionato questi allora facciamo l'anticipazione sentiamo al tavolo vino cosa vi vengono a chiedere unione italiana via castelletti è stata questa la linea giusta che il governo ha seguito e poi cosa cosa andrete a chiedere a questi a questi tavoli per il futuro vista anche la situazione vista anche permettetemi di dire la seconda ondata perché insomma diciamocelo chiaro eravamo tutti convinti speravamo quest'estate in qualche maniera di averla fatta franco di avere numeri minori adesso le notizie sono sempre in evoluzione quindi immagino anche le le richieste le prospettive siano in evoluzione per le aziende. Sì grazie buongiorno anche da parte mia ringrazio presidente Cuccia per l'invito sì confermo quanto appena detto dal sottosegretario eh di Stefano credo che il governo si sia mosso ehm subito abbia convocato questi questi tavoli abbia già eh appunto messo in in campo delle azioni assolutamente interessanti eh c'è ha ricordato prima presidente Cuccia sostanzialmente che questa pandemia ha colpito soprattutto questa platea eh di di produttori quelli che guardano al al canale tradizionale ricordo a me e a e a noi stessi eh che per un numero in Italia eh eh l'on trade quindi canale tradizionale e la vendita diretta rappresentano eh circa il sessanta per cento quindi siamo tutti convinti eh che la GDO fa la faccia da padroni in realtà sono due canali appunto eh oreca e vendita diretta importantissimi eh per le imprese per cui eh rimane molto lavoro da fare quello della formazione è un lavoro assolutamente eh da 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 qualificare credo siamo peraltro a casa di un player importantissimo da questo punto di vista che deve essere eh coinvolto rispetto invece alla domanda del tavolo sì devo dire che abbiamo eh insistito ma eh di Stefano l'ha colto eh subito questa nostra richiesta perché riteniamo che la pubblica amministrazione abbia la necessità di mettere in campo soprattutto dal punto di vista formativo e della comunicazione le esperienze di questi eh signori. Castelletti voleva fare una conclusione? Eh no no solo una sottominatura vista la presenza del sottosegretario prima eh tu hai chiesto eh quale sarà la chiusura d'anno però incombe eh su di noi incombono due fenomeni due questioni eh internazionali molto importanti che vedono eh in Maechi eh assolutamente in prima linea noi abbiamo scritto proprio l'altro giorno al ministro Di Maio una è la questione eh WTO la sentenza eh su Boeing eh la ricordiamo una sentenza che riconosce se non mi sbaglio all'Europa eh quasi quasi quattro miliardi di dazi che si vorrebbe applicare a specchio e questo eh è un grandissimo rischio eh perché vorrebbe dire daziare i vini eh americani che trovano nel eh continente europeo il primo mercato eh di sbocco. Quindi voi cosa vorreste? Un saldo tra i dazi americani? No 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 intanto aspettare la fine del del delle elezioni americane perché è un periodo veramente molto e dall'altra parte avviare di negoziati e superare questo momento di. Perché l'Unione italiana vini tifa per Trump o tifa per Biden no? Chi non gli fa i razzi. L'altro aspetto l'altro aspetto da non ricordare è che con il primo gennaio la Gran Bretagna sarà un paese extraeuropeo. Sì. E probabilmente chiuderemo con un non accordo. Questo ci preoccupa non poco quindi diciamo che eh eh le pressioni che facciamo sul MAEG soprattutto è di attenzionare questi due dossier che sono assolutamente importantissimi. Ecco insomma le ha le ha dato anche io avrei dovuto scrivere perché sono stati almeno duecento spunti però. Assolutamente uno spunto per per la conclusione le posso chiedere prima però vi posso chiedere per alzata di mano eh chi eh chi chi si sente preoccupato per il futuro e chi no chi si sente preoccupato tra i produttori? Ah adesso no eh eh dai dai no pensavo molto peggio pensavo pensavo no non si possono alzare due mani eh pensavo molto peggio prego sottosegretario. Allora partendo dal dall'ultimo spunto ricevuto chiaramente il il no deal del Brexit è da tempo già una materia che come Farnesina seguiamo regolarmente e chiaramente non è soltanto il vino anzi abbiamo con la con la Gran Bretagna enormi rapporti anche su tutto la l'asset dell'aerospazio dei macchinari industriali tantissimo quindi si sta cercando di eh di di trovare una soluzione. La verità è che probabilmente anche per stimolo britannico occorrerà attendere davvero il no deal per poi dover ricominciare una contrattazione bilaterale serrata e l'obiettivo chiaramente di tutelare non soltanto le merci ma anche le persone perché noi in Gran Bretagna abbiamo una comunità italiana immensa e per quanto eh riguarda gli Stati Uniti avete già visto eh fortunatamente e magari anche un pover bravura che fino a ora si è riusciti a tutelare il settore e tutelare l'Italia in particolare rispetto ad esempio alla Francia che è stata colpita molto più duramente eh in termini di 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 dazzi derivati da quella sentenza e chiaramente continueremo a a farlo è evidente che potremmo inciampare in questo momento ce lo dobbiamo dire chiaramente nella campagna elettorale americana perché il protezionismo diventa eh un argomento di dibattito politico diciamo che Trump abbia più problemi personali insomma di altro tipo ce ne sono di vario genere però eh diciamo che in un mese può capitare molto esatto però può succedere di tutte quindi noi ovviamente monitoriamo costantemente con con Washington la la situazione cerchiamo di indirizzare specialmente a livello di funzionari per il trade che negli Stati Uniti poi sono loro che compilano la la vera e propria lista delle dei dei tazzi per quanto riguarda il recovery fund io non sono non sono assolutamente preoccupato siamo sono normali schermagli non lo siamo al punto che nella manovra nella nella Nadef la nota l'aggiornamento del documento dell'economia e finanza inseriamo tra i 40 miliardi di manovra che faremo quest'anno eh 25 miliardi direttamente la recovery fund perché nella quota 2021 quindi questo anche avesse fatale il mito di del del chissà quando arriveranno eh si dice insomma nell'estate del duemì però non li possiamo già programmare ora utilizzare perché poi sono retroattivi nella nella in questa manovra di bilancio mettiamo venticinque miliardi al recovery plan andando agli stimoli eh sul cosa farci sicuramente la logistica e quindi tutto il mondo dei trasporti anche è uno dei temi principali il ministero e delle infrastrutture e dei trasporti ha fatto un enorme piano sul recovery fund e e quindi quello è una è un asset prioritario sulla GDO eh altrettanto chiaramente dobbiamo dirci che non è materia pubblica per certi aspetti io personalmente ho provato dal mio primo giorno due anni fa a parlare con tutti non faccio neanche i nomi ma con tutte le le catene di grande distribuzione che abbiamo in Italia o per statuto o per volontà o per tentativi già falliti nessuna vuole andare all'estero la risposta nostra è stata infatti eh tramite anche ICE fare nuovi accordi di esposizione dei prodotti italiani nelle GDO straniere all'estero quindi eh oggi chi eh di voi eh utilizza servizi eh ICE nota che sia sull'e-commerce con nuovi accordi che abbiamo fatto con JDI.com Rakuten Alibaba Amazon che sulla parte della GDO abbiamo nuove opportunità e eh nuove quindi opportunità per voi di disposizione abbiamo recentemente aumentato le vetrine italiane nei vari e-commerce mondiali sono d'accordo l'e-commerce non è l'alternativa è un altro canale eh e sulla GDO si facendo esattamente esattamente la stessa cosa lasciatemi dire che forse a questi due mh pilastri ce n'è un terzo che ci diciamo sempre ma che ora si inizia a fare qualcosa di più secondo me che è quello dell'Italian Sounding ce ne sarebbe anche un quarto che è quello dei semafori alimentari che non riguarda eh direttamente magari il vino ma eh la la tutto il mondo dell'agricoltura italiana ecco sull'Italian Sounding eh si sta facendo tanto anche con nuovi progetti c'è uno che si chiama True Italian Taste eh dove andiamo tramite le camere di commercio all'estera a fare sensibilizzazione al prodotto autentico italiano presso le catene diciamo poi locali eh è un altro progetto finanziato con undici milioni di euro per educare gli influencer globali a cos'è il prodotto italiano così che loro possano a loro volta diffondere eh questa questo concetto di prodotto a catena eh esattamente appunto italiano chiaro fa tanto anche lavori come questi della guida e chiudo dicendo che se torno a casa senza la guida mia moglie Sommelier mi ammazza quindi vedete cosa dovete fare perché allora anche di sua moglie Sommelier invece di Stefano non è ancora Sommelier io ho visto fare l'esame a mia moglie ti faccio in bocca al lupo perché non avrei neanche il tempo di studiare così tanto quindi non ci non mi ci metto nemmeno avete visto che mentre io mentre moderavo intanto continuavo a studiare qua sul cellulare ho tutti gli appunti allora domanda finale per il sottosegretario di Stefano è quella d'uopo vino preferito vino preferito non voglio fare torti a nessuno quindi dico le categorie sono un amante del rosso e nei miei preferiti metto chiaramente Toscana Piemonte Campania sì e poi se andiamo su altri generi di vino mi piacciono quelli molto minerali quindi mi piacciono i vini dell'Etna ad esempio perfetto grazie sottosegretario non sappiamo quali sono i vini preferiti chi è il wine lover proprio del governo Conte Conte secondo me non non disdegna dovrei dare un a dire un altro segreto ce ne sono diversi non voglio dare un messaggio sbagliato gli amanti del vino sono tanti perché facciamo buon vino e quindi tutti ce lo godiamo rispetto ad altri prodotti quello è ovvio allora grazie di Stefano Castelletti Borrelli grazie Paolo Cucci un applauso per tutti loro grazie Paolo resti sul palco con noi e Giuseppe resta col palco allora visto